La cura di Sofia Ranise. Interno studio terapista. Sera. Cinque uomini seduti in cerchio. Delle dita affusolate picchiettano nervosamente su una coscia. A rompere il silenzio la voce di un giovane che non smette di gesticolare. Continuava a urlare come se avesse paura. Stronzate. Godeva, ve lo dico io. Ivan, 35 anni, ha gli occhi di tutti puntati su di sé. C'è chi cambia posizione sulla sedia, chi si morde le labbra, chi non riesce a fermare il tremolio delle gambe. Ivan. Non potevo smettere. E poi aveva queste mutande di pizzo rosa. Si intravedevano da sotto il vestito. Dico, se ti vesti così te la vai a cercare, no? Gliele ho sfilate e me le sono messe. Una voce femminile. Gentile e decisa, interrompe il discorso. Rita. E questo sogno come ti ha fatto sentire? Rita, 46 anni, sta dirigendo la terapia di gruppo. Osserva attentamente i comportamenti dei suoi pazienti e prende appunti. Ivan, com'è la prima volta? Rita guarda all'orologio e è tardi. Rita, ringraziamo Ivan per quel che ha voluto condividere con noi. Per oggi può bastare. State facendo dei grandi progressi e sono molto fiera di voi. Ci vediamo martedì prossimo. La psichiatra si alza sorridendo, si toglie gli occhiali ed esce dalla stanza. Mentre tutti sistemano le sedie, un paziente, Renzo, 50 anni, la segue timidamente. Sul suo viso paffuto scorrono gocce di sudore. Renzo. Dottoressa. Rita si volta. Riguardo alla terapia. Io volevo... Rita. Lo so. Non ti preoccupare. Le prime volte non è facile. Parla solo se te la senti. Senza pressione. Renzo. No, non dico quello. È che ho paura. Rita. È normale essere spaventati. Vedrai che col tempo l'uomo invadendo lo spazio fisico di Rita le prende le mani. Renzo. Ho paura per lei, dottoressa. Queste persone sono come me. Lo vedo come la guardano e so cosa vorrebbero farle. Rita stringe la mano di Renzo e la porta a sé. Rita, non cedere alle tue paure. Se ti fa stare tranquillo, nessuno dei miei pazienti è mai tornato in prigione. Renzo, non convinto, si allontana. Torna nella stanza per prendere il cappotto, ma il suo sguardo indugia su Ivan, nascosto tra le mani a dell'intimo da donna di pizzo rosa. Esterno vicolo, notte. I fari di una macchina grigia si spengono. Dalla vettura scende silenzioso Renzo. A pochi metri da lui, Rita ferma davanti alla porta di casa. Cerca qualcosa nella borsa. Renzo la fissa e poi, quasi sorpreso, inizia a correre verso la psichiatra. Quando Rita lo vede, l'omone le è già addosso. Dalle mani la afferrano e la tirano indietro con forza. Rita, lasciami! Si sentono delle urla e Renzo, inciampando sullo scalino d'ingresso, cade, sbattendo la testa. Giace in una pozza di sangue. Interno centrale di polizia, notte. Dennis, trent'anni. Un giovane argente risponde all'ennesima chiamata. Dennis, 112, qual è l'emergenza, Rita? Aiuto, c'è un uomo morto. Non respira. Credo, credo, credo di averlo ucciso.